ma alla fine non abbiamo preso nessun risultato perché loro l'hanno proposto per le persone fragili secondo loro ma qua noi tutti quanti siamo fragili fragili vuol dire che è uno che non ha in grado di mantenere se stesso quindi noi siamo tutti fragili a questo punto i posti comunque loro hanno detto che ce l'abbiamo, hanno detto proprio ce l'abbiamo però solo per donna con bambina, anziani e con le disabili, solo per questo qua non è uno perché gli manca una gamba, la fragilità è chi non ce la fa chi non ce la fa a vivere in questa società hanno detto che affronteranno questa cosa e che sono disposti a usare questi soldi ma non per risolvere i problemi nostri che viviamo qua dentro da oltre 20 giorni se non c'è una gestione, una vera e propria di integrare i raffugiati politici che abbiamo di tutto il diritto di farlo non pretendo da una cosa che non c'è se il comune oppure il paese intero non ce l'ha mesi per integrare noi chiediamo la carta che non ci riesciamo a gestire quindi noi con questa carta andiamo al paese in cui rispettano la legge dei rifugiati politici voi volete che mettano nero su bianco che non riescono a gestire i rifugiati politici? a Roma in Italia in generale non lo so comunque però io oggi sto qua a Roma e io parlo di Roma e con quella carta volete andare per esempio in Germania o in Francia? al paese in cui rispettano la legge dei rifugiati politici noi siamo qua, non è che siamo intenzionati domattina a fare le valigie pensate di continuare a stare qui in presidio? dove andiamo? non abbiamo altri posti di andare siamo stati in piazza, ci hanno spassato proprio io veramente non ho neanche spiegazioni ci hanno spassato proprio come se fosse stare a monnesa nella piazza lì siamo qua se non abbiamo altri posti di andare continuiamo a stare qua grazie a tutti